In termini tecnici è una disciplina artistica, è una forma d'arte. Io sono un artista a sinistra, quindi non potrei non interessarmi anche di questo. In termini esistenziali è il mio cordone umbilicale col resto del mondo. Cioè è dove c'è il passaggio di nutrimento tra me e il resto del mondo.